Era una notte buia e tempestosa e inizia una serata importante. Posso parlare con i tesori? Tesori, oggi attaccheremo degli stickers, non so dove, non so che cosa. Dicevo, era una notte buia, mi stai abbrassando, mi piace. Era una notte buia e tempestosa. Ciao. E me serve mamma, mamma ha comprato qualcosa che ti servirà, che ti servirà utile. Questo è l'oggetto del nostro tesoro, tipo Gollum. Il mio tesoro, il mio tesoro. Vedo se effettivamente è qui. Atmosfera, 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 atmosfera. Dove sta il pirulino che sta accendendo? Atmosfera, atmosfera. E magari, no, no, quello è un'altra. Atmosfera, atmosfera. Ma sta lì dentro. Dove? Ah, atmosfera, 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 atmosfera. Ehi, piromane. Atmosfera, atmosfera. Aia, 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 aia. Mamma, sei seria? L'atmosfera, atmosfera, atmosfera. Bene, 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 bene. Il momento è propizio. Zucche da colorare e da diamantare. Cioè, in realtà da diamantare e non da colorare. Zucca, grande, zucca piccola. Zucca ancora più piccola. Zucca ancora ancora più piccola. Zucca ancora più piccola. Zucca ancora più piccolina. Zucca ancora più piccola. Vuoi una mila, cara? Zucca ancora più piccola. Ah, dove si fa? Eh, eh, eh. Sei pronta? Uh, 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 uh. Che caldino che fa con questo scarfettino, però. Ecco qua. Ecco, giusto per coprire. Grazie, Graziella. E grazie al... E non lo so, volevo fare una cosa un po' traicicola. Oh, Lara! Che? Ma che idea... Ma bellissimo. Infatti, mi vado a vedere un colore. È molto più bella della mia. No, no. Perché la mia cascata, non lo so, non sta avendo luogo. È molto meno cascata di quello che volevo che cascasse, la cascata. Eh, vabbè, la cascata casca. La cascata non sta cascando. Non è cascata ancora la cascata. Cioè, la mia cascata non sei mai la cascata. Perché la mia cascata non sei mai la cascata? Se mangia un bellone? Se mangia un bellone? Se mangia un bellone? Se mangia un bellone? Dei sei sa c'è un bellone. No, vabbè, Lara, ma stai facendo una figata. Ma ti prego. Ma ti prego. Tutto a posto oggi? Come andata la giornata? Come andata a scuola? Bene. Bene. Ti sei divertita, amore? Mi sei mancata tanto. Manca a me. Che bello fare i lavoretti insieme. Beh. Viate fare i lavoretti con te. Ok. No, mi sta venendo un po' brutto il mio. No, non è vero. Non lo so, questa cosa è più bello il tuo... Ok, smonto tutto, lo faccio come il tuo. No. No. Oh mio Dio. E' bene. Esattamente ciò che volevo fare io, solo che a me non sta venendo. Sei seria? Sei più di serie di questo. No, fa... Scusa. Ma, questa ti rende conto di che sta a fare lei? Mamma, non smontare. I'm so sorry, babe. Non l'ho fatto a posto. Ma il mio sembra quello dei scemi. Non è vero. Sì. Ma è bellissimo perché stai facendo grande, Mary Pick. Non mi piace a me, è il tuo più bello. Io non sono brava come te. Ah, vabbè. Ma vabbè. Ma che cacchio? Ma avevo iniziato qui, sono finita qui. Ho fatto tutto in giro, mi sono sempre passata di più e ho fatto tutto sorti. Ma è carino. Bellissimo. Senti che buon odore, però. Beh? Non so tutto niente. Giustamente. Eh. Eh. Oh, scusami. Ma che bontà, ma che bontà. Ma che cos'è questa roba in acqua? Ma che schifezza, che schifezza. Che mi sta venendo questo qua? No. Senti, il tuo è bello, il mio no, ok? Il mio non è bello. Capito, capito, capito. La piccola è roba. Mamma, 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 tu calma. Papito, papito, papito. Papito, papito, papito. Papito, papito. Minì, tu che ti avevi prima? No, in bocca. In bocca non si mette il problema. Bella, Bella, Bella. I lancini, anche lei. Tutti insieme mettiamo i lancini. Dove mettere un altro? Wow. Bene. Ok, mia figlia ha un talento. Bene. Andiamo avanti con la cena No vabbè Sembra una principessa Una principessa Sei un mostro? Sì lo vedono Sei un mostro? Sei un mostro Ma sembra è più una principessa Così che è un mostro La principessa con la sua La principessa Della zucca La principessa zuccosa Zucca strega Tocca Ciao Ciao sudditi Ma chi ha insegnato questo? Non capisco come va Che c'è? Ti piace? Sei molto arrabbiata? Oh sei molto arrabbiata Perché ti gratti l'orecchio Oh adesso non è più arrabbiata Bene bene Mentre voi fate queste belle cose Io devo cucinare Ok sono molto impressionata Devo dire ragazze Grazie mamma Grazie mamma Guarda 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 Amore Ma me l'hai insegnato tu? No Oh signore Ma come si è bella Oh che per bene Questa si vuole travesti ad Halloween Guarda eh Zoe ti travesti ad Halloween Quindi facciamole spaventare Ah ok Ok si Ok ok Da cosa? Da strega? Da che cosa? Da Ah Da Dracula Da Frankenstein No Da principessa Da principessa Però Scusami però Ad Halloween Da principessa Sei sicura? Ah Da Halloween a principessa Io voglio vestire da Black Widow Da Black Widow Sì Va bene E tu? Che ne pensi di Hulk? No Ci siamo Sono pronti gli hamburger E qui abbiamo Harry Potter Questi ovviamente non sono entropi per me Uno per me Uno per Ale Ovviamente Sì